Buonasera, ben ritrovato in una nuova puntata di Angoli. Come sempre vi voglio ricordare la mail per comunicare con la redazione del programma angoli-espansionetv.it, mi raccomando utilizzatela per segnalarci argomenti che vi piacerebbe approfondissimo assieme. Adesso vado a presentare le ospiti di questa prima parte della puntata, si tratta di Cinzia Zorino dell'Associazione Italiana Dislessia e Anna Burghi, docente e anche lei socia della AID. Buonasera. Buonasera, è formatrice, oserei dire, importantissima della nostra associazione. C'è formatrice AID sul nostro territorio. Benissimo, adesso ci spiegherà anche meglio che cosa significa questo ruolo, cosa fate in concreto. Anzitutto, io direi, focalizziamoci sul definire il problema. Quando si parla di dislessia, a cosa si fa riferimento? Cioè, lascio rispondere alla professoressa Burghi che è più sul campo. Allora, intanto diciamo che oggigiorno, per fortuna, di dislessia si sa tanto. Non era così vent'anni fa quando gli alunni, i bambini o l'elementario, le medie, che comunque erano dislessici, non venivano riconosciuti perché non si sapeva quale fosse il problema. Erano gli alunni che venivano tacciati per essere alunni pigri, alunni lazzaroni, a volte anche non intelligenti. Perché? Perché il problema della dislessia è che è una neurodiversità, sottolineiamo, forse anche bene chiarire di cosa si tratta, neurodiversità di origine genetica. Quindi si nasce così. Ed è bene sottolineare questo perché, come talvolta erroneamente si pensa, che dalla dislessia si possa guarire. No, è una neurodiversità come una neurodiversità lo ha ad esempio il mancino, che però non fa tanto scalpore. Dicevo, sono ragazzi, sono bambini intelligenti, che nella vita normale se la cavano bene. manifestano difficoltà quando appunto si incontrano con gli apprendimenti scolastici, perché lì il loro disturbo, la dislessia è un disturbo, anche questo va detto, è da distinguere per questo dalla disabilità, e infatti gli alunni con dislessia non hanno sostegno, ma è da distinguere anche dalla difficoltà. Faccio un esempio, se un bambino, un ragazzo ha una difficoltà per esempio in matematica, con l'esercizio, con determinati interventi temporanei, la difficoltà può essere superata, perché la difficoltà è temporanea, il disturbo invece è permanente, cioè rimane. Si manifesta nella dislessia, quella più comune, più conosciuta, che vuol dire una difficoltà nella lettura, una lettura che è poco corretta e anche poco fluente, però può essere, infatti si parla di disturbi specifici di apprendimento, i famosi DSA, si parla anche di disortografia, di disortografia, sono i bambini che hanno difficoltà nello scrivere, commettono tanti errori, disgrafia, coloro che scrivono male, e discalculia, sono questi quattro. La discalculia che cos'è? È una difficoltà appunto nel calcolo, è la difficoltà ad esempio a memorizzare le tabelline, ma anche a memorizzare le procedure. Bambini e ragazzi anche più grandi che fanno fatica a ricordare ad esempio come si procede nella soluzione di, nell'affrontare un'operazione. Ecco, questo è un po', dicevo, non si guarisce, non è una malattia, non si guarisce, cosa si fa? Si compensa. Ecco, la parola chiave nel caso di dislessia è proprio questa, della compensazione. Beh, intanto quando sono piccoli si interviene ad esempio con la logopedia, se è il problema, oppure con degli interventi per quelli più grandi, che danno loro delle strategie, altra parola chiave, no? Strategie che servono proprio nell'apprendimento a superare le loro difficoltà. E poi molto importanti, i genitori lo sanno bene, sono quelli che si chiamano gli strumenti compensativi. Cosa vuol dire? Oggi la tecnologia ci aiuta molto in questo, chi è dislessico può compensare ad esempio con la sintesi vocale, cioè con la lettura fatta attraverso lo strumento, oppure scrive male, ecco il computer che ci aiuta. La possibilità di leggere, essendo per loro una fatica leggere, possono essere aiutati dall'audiolibro. Le mappe, le famose mappe che supportano nell'aiuto dello studio, perché è una fatica di chi è dislessico, di chi ha questo problema, è quello di memorizzare. E quindi la memorizzazione è delle tabelline, come può essere dei verbi, delle regole, come può essere delle date o di tutto quello che è apprendimento. Quindi è consentito loro, teniamo conto che i ragazzi con dislessia sono tutelati da una legge, la legge 170, che è del 2010, che ha messo a bene a fuoco il problema, è stato recepito anche a livello appunto parlamentare, ed è loro consentito di utilizzare appunto quelli che si chiamano strumenti compensativi. Mi pare di capire che, come dire, la prima figura che si sobbarca e che soprattutto si accorge del problema è l'insegnante. Cioè alla scuola primaria, forse, che si riesce anche prima, anche nella materna, si avverte che qualcosa non va. Indubbiamente. Difatti, cioè sul nostro territorio siamo anche fortunati perché sia l'ufficio scolastico, cioè ha proprio fatto una convenzione sia con le ASL che con noi, Associazione Italiana Dislessia, cioè per fare degli screening nelle scuole già in prima e seconda elementare, cioè proprio per capire se i bambini hanno già problemi di dislessia, cioè sin da piccoli, proprio per non arrivare a capire il problema in età già da grandicelli, perché effettivamente questi bambini hanno difficoltà, fanno fatica e proprio per non fargli avere un percorso scolastico, faticoso e la cosa brutta e dolorosa per questi ragazzi è che finiscono spesso ad avere un'autostima che crolla e tanti ragazzi arrivano, cioè è brutto a dirsi, ma così giovani a cadere in depressione e c'è tantissimo abbandono scolastico, cioè proprio per l'incomprensione del problema. Certo. Cioè mentre diciamo che su questo territorio siamo davvero fortunati perché c'è molta attenzione e anche molta formazione, anche se c'è ancora tanto da fare. Immagino, ma lei prima Anna ha detto che non si guarisce dalla dislessia, questo che cosa significa? Che è un problema che ci portiamo, che si portano dietro per tutta la vita e con cui imparano in qualche modo a convivere e quindi automaticamente anche un po' a compensare o... Sì, in effetti la domanda potrebbe essere ma gli adulti dislessici come hanno fatto quando di dislessia non si sapeva? Indubbiamente, come diceva Cinzia, in passato c'era un abbandono scolastico, cioè questi erano ragazzi che venivano bocciati e quindi poi lasciavano la scuola. Oggi i dislessici fanno l'università, frequentano le scuole superiori, purtroppo c'è una concentrazione ancora tanto alta negli istituti professionali. Però il dislessico può tranquillamente, soprattutto se il percorso è riconosciuto presto, come diceva Cinzia, e quindi c'è tutto un accompagnamento dove tra l'altro il ruolo della famiglia è molto importante, cioè la scuola ma anche la famiglia che si accorge, che collabora. Non è impedito loro di fare un percorso scolastico appunto fino all'università. Si convive, sì, nel senso che quello che dicevo prima, se la tecnologia aiuta, ma anche quello di trovare delle strategie proprie. Appunto quanti adulti, tra l'altro è interessante questo, ci sono tanti genitori che si accorgono di essere stati a loro volta dislessici nel momento in cui il figlio riceve la diagnosi dislessia, cioè riconosce nelle problematiche del figlio le stesse che ha attraversato lui e come ne è uscito, in alcuni casi appunto interrompendo gli studi, se non proprio arrivando alla licenza media. In altri casi perché essendo il loro quoziente intellettivo nella norma, a volte anche superiore, hanno trovato da sé quelle strategie per memorizzare, per compensare. Oggi invece appunto gli aiuti che arrivano dalla scuola, conoscendo il problema, sono alti, sono sicuramente buoni. Ma a di là appunto, come abbiamo detto, il campanello d'allarme, il primo referente, proprio la maestra, l'insegnante, c'è un percorso proprio diagnostico a livello sanitario? Sì, sì, c'è. Praticamente funziona così, la scuola segnala alla famiglia, la famiglia porta il figlio a fare la diagnosi, esistono anche sul sito delle ASL, anche sul nostro sito, cioè noi pubblichiamo tutti gli enti accreditati e quelli riconosciuti, perché ci vogliono degli clienti riconosciuti, devono avere le tre firme dei tre specialisti, cioè perché ci vuole un neuropsichiatra, un logopedista e uno psicologo per certificare il bambino. Questi fanno una prima diagnosi, cioè si può fare già dalla terza elementare. Per la discalculia, cioè devono raggiungere almeno la quarta elementare e in terza elementare possono intervenire con la logopedista e fare trattamenti logopedici. Poi diciamo che quando il bambino comincia a crescere, allora si può intervenire, cioè con tutti gli strumenti compensativi che sono il computer, la videoscrittura, cioè il tutore dati, insomma ci sono un sacco di strumenti, cioè i bambini cominciano ad essere inseriti nell'associazione e cominciano a imparare proprio l'uso degli strumenti, ad avere tutto facilitato. Benissimo, giustamente la regia sta navigando il preziosissimo sito che si chiama aiditalia.org dove ovviamente potete ritrovare moltissime delle cose che abbiamo detto in questa parte di puntata, ma anche molte altre, quindi vi invito a visitarlo. Io ringrazio moltissimo Cinzia Zorino e Anna Burghi per essere stati con noi questa sera, grazie ancora. Grazie a voi per la sensibilità. Come sempre noi ci rivediamo subito dopo la pubblicità, quindi restate con noi a tra pochissimo. Grazie. Grazie.